Alcuni dicono a sinistra per consolarsi, ma per fortuna che c'è il Movimento 5 Stelle, altrimenti ci sarebbe stata una destra italiana molto più, diciamo, cattiva. Io questo non lo credo, perché in Italia una destra non ha mai avuto una grande influenza, né un grande consenso. L'Italia è diventata un paese fortemente antifascista, non ha mai permesso, la destra è stata sempre marginale, infatti era stata prima il Movimento Sociale, poi l'Alleanza Nazionale, l'Alleanza Nazionale è riuscita a contare qualcosa quando si è alleata con Berlusconi, ma non prima, quando era, non è vero, in Italia non sarebbe stata mai possibile una forza alepenista, come quella francese, una di destra, insomma, anche così dura. L'anomania 5 Stelle è proprio tutta, tutta colpa del fatto che la sinistra aveva lasciato libero un campo che non aveva più coltivato. In Otra Vuelta di Tuerca, Mario Tronte.